Musica Tutte le volte si presenta con una band diversa Davide Marciano è un cantautore italiano che però è riuscito a farsi molto amare da tutti quelli che abitano nella parte da tutti i telespettatori anche di lingua tedesca quindi un pubblico molto vasto un pubblico medioeuropeo poi ecco un'altra cosa buona che ha fatto beh insomma ce lo facciamo dire anche da lui facciamolo venire qua Davide Marciano Allora Davide chiediamo a te questo 45 giri come si intitola? Ma dove sono andate? Ecco le band Allora ascoltiamo cose che cambiano Davide Marciano Una persiana chiude su una bibita un caffè un fiume che trasforma anche una notte che non c'è è una rivera grida che non vuole soffocare passeggiano due amici non si fermano a guardare parlano di amore di pareti e di illusioni ricordano il passato dove si incoglievano fiori ormai sbocciati per la fretta di provare un altro mondo ma qui con la stessa fretta stiamo già toccando il fondo sono le cose che cambiano e anche qui in questa riviera si consumano nelle notti già sveglia un amore che non c'è sono le cose che cambiano e anche noi che pensavamo di deluderlo questo tempo che è passato senza scrupoli ma non parleremo più e una notte sta crescendo come un'avventura disegnata sui solai che cadono coi tetti a pezzi non li aggiusteranno mai no, non ricordano più niente neanche i padri degli eroi e allora sogna un altro mondo non ritorneremo mai sulle cose che cambiano e più cambiano e più fanno venire primi di e chissà che questa gente poi si liberi dalle scuse che si dà per le cose che cambiano e anche noi che pensavamo di deluderlo questo tempo che è passato senza scrupoli ma non parleremo più e una notte sta crescendo sulle cose che cambiano sulle cose che cambiano ma non parleremo più ma non parleremo più E non vuole soffocar Grazie!